Ciao a tutti ragazzi, qui Alec e oggi siamo qui per un nuovo epis... ...no... Bleh... Ciao a tutti ragazzi, qui Alec e oggi siamo qui per un video particolare, lunedì non dovrebbe neanche uscire un video, questo sarà un video brevissimo, vi volevo solo invitare al gruppo di Telegram, per chi non conoscesse Telegram è come Whatsapp, solo che è uscito da poco e è veramente un programma molto più semplice di Whatsapp, molto più funzionale, che ha dato la possibilità di creare un gruppo come su Whatsapp, ma un gruppo per il pubblico, cioè un gruppo dove possono scrivere solo gli amministratori ma possono visualizzare tutti, quindi ci sono già 21 membri su questo gruppo, è l'altra 20, non capisco perché lì non ho visualizzato di 21, perché l'ho già spammato su Facebook, volevo dirlo a tutto il canale, perché? Perché in questo gruppo, se voi partecipate a questo gruppo, in pratica potete ricevere continuamente i miei aggiornamenti sul canale, ovviamente posso scrivere anche quando sto in giro, se voglio mandarvi una foto, volete sapere dove sono, che sto facendo, posso scrivere sempre lì, perché per me è un attimo, è tipo Whatsapp dal telefonino, prendo, scrivo una cazzata, posto una foto, linko qualcosa, è più, cioè è meglio di Facebook, è più facile, eppure per voi è un attimo, vedete la visualizzazione, vedete, arriva subito il trillo, che sta arrivando un messaggio come se vi iscrivessi su Whatsapp, non c'è spam perché posso scrivere solo io, quindi non è un gruppo dove ci sarà tanto spam, potete comunque silenziarlo se vi dà fastidio, e l'ho aperto oggi, oggi che è domenica, uscirà domani questo video, quindi, come fare a partecipare a questo gruppo? Semplice, adesso comparirà un link a schermo, basta cliccarvi, cliccateci, se state da cellulare è da cellulare, e se state da computer è da computer, perché Telegram può essere scaricato anche da computer, comunque cliccate sul link e vi dà unisciti, unisciti al gruppo, clicchi unisciti e partecipate al gruppo, potete usare Telegram anche da PC, è come Skype, voi scrivete Telegram download sul Google e lo potete scaricare tranquillamente come se fosse Skype, ce l'avete sul computer, molto molto comodo, molto molto comodo, e così potete scrivere e vedere anche sia da computer che da telefonino, comunque questo link potete cliccarlo da entrambe le parti, sia da PC che da telefonino, e partecipate, unitevi, lo trovate anche in descrizione, questo link lo trovate adesso a schermo, continuamente in alto a destra, dall'inizio del video che c'è, e quindi, detto questo, partecipate in molti, perché è un modo per cercare di coinvolgervi più, sia anche nella mia vita, nel senso quando posso, almeno vi posso scrivere, non solo nei video, e è un modo carino insomma di sfruttare anche Telegram, che è un signor programma ragazzi, rispetto a Whatsapp, è molto veloce anche a inviare PDF, file, potete usarlo anche con i vostri amici, è completamente gratuito, e è esattamente come Whatsapp, se no meglio. Detto questo, per questo episodio è tutto, lasciate un like, un commento, per eventuali chiarimenti, bla bla bla, dal like è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, bella!